Cosa c'è dietro l'intelligenza artificiale? Ci facciamo delle grandi domande. E queste domande sono l'intelligenza artificiale. Può mettere in pericolo l'umanità? Un'altra domanda che ci facciamo è se i robot porteranno via il lavoro. E soprattutto quale etica utilizzare per l'intelligenza artificiale? Sempre che abbiamo iniziato. E l'intelligenza artificiale mette in pericolo la democrazia e in fondo tutti quanti ci chiediamo come tenere l'uomo al centro che è quello che aveva diciamo in inizio. Allora, viviamo in questo mondo in generale, qui dentro in questa sala è pieno di tech, di geek, di nerd, che io lo dico con un'accezione positiva, perché ho iniziato come programmatore 35 anni fa e da là non ho mai smesso di smontare cose, di guardare come sono fatte dentro, come la maggior parte. Sapete che è un mondo complesso. È un mondo in cui già prima dell'intelligenza artificiale era un mondo faticoso da capire. Pensate banalmente, dico, a quelli cosiddetti nativi digitali. Quanti nativi digitali conoscete che non sanno cosa ci sia dietro quello che usano? Li chiamano così. Non sanno. Provate a chiederglielo come esperimento. Provate a chiedergli se sanno la differenza tra internet e web. Vedrete che molti non lo sanno. Cioè c'è un misunderstanding. Si conosce il davanti e non il dietro. Allora, la cultura fortunatamente è l'ignoranza, in senso, nel caso verticale, il curabile. Cioè si possono aiutare queste persone a capire. L'importante è sapere che ne abbiano bisogno e loro stessi. Perché questo è un po' il punto. E quindi sostanzialmente la questione è capire cosa sta succedendo sulla base di quello che è successo sino adesso. Quindi dall'infusione di internet a quella del web, alle varie applicazioni, sino ad arrivare oggi a dove siamo. E giustamente appunto le domande che ho fatto prima, che poi sono quelle che si fanno in molti là fuori. Noi siamo in fondo tutti del settore. Quindi ci si mette l'itis, manetta. E a volte non si ha troppo tempo per farsi grandi domande. Usiamo quello che c'è. Ma qual è il vero pericolo più grande? Allora, per sciogliere l'aria, come si dice nel mondo anglosassone, il pericolo più grande dell'intelligenza artificiale è chi la sottovaluta. Chi la sottovaluta perché pensa che sia solo positivo. O chi la sottovaluta perché pensa che sia solo negativo. In realtà è un misto tra queste due cose. E poi in fondo parliamo di intelligenza artificiale. Io ho scritto un libro che parla di questi temi, dove a un certo punto, subito, appena è stato possibile, ho detto fermi tutti. Io la chiamo intelligenza artificiale, ma non è intelligenza artificiale. È un'altra cosa. È sbagliato. Però in fondo dobbiamo usare un cappello comune. Oggi ci sentirete questa parola centomila volte, l'abbiamo sentita altrettanto. Ma soffermiamoci un secondo per capire il problema su cos'è l'intelligenza. Allora, l'intelligenza, soprattutto quella umana, è strana. Perché è un fattore di mix a cose. L'attore interno, esterno, discorsi, mette insieme materia, biologia, cultura. È fatta di parole, di segni, di cooperazione, di socialità. È fatta di vita in comunità. Perché c'è quell'intelligenza, l'intelligenza sociale, l'intelligenza emotiva, l'intelligenza reale, l'intelligenza associativa. No, è fatta di patrimonio e soprattutto biologico, che è una roba che ancora conosciamo poco, no? E che nulla ha a che fare con i neuroni computazionali. Nulla ha a che fare con la nostra intelligenza, con i bici. Non c'entra nulla. Per cui, come qualcuno prima ha detto, ho visto tante definizioni dell'intelligenza artificiale. Ecco, allora, di quella che abbiamo oggi io ne ho una. Ed è la comunicazione artificiale. Questa è comunicazione artificiale. In fondo sappiamo, qui molti la conoscono nel dettaglio, altri sono qua per capire, sappiamo che in fondo sono sistemi statistici, algebra lineare, no? È quello, no? Sono dei ripetitori statistici, stocastici. E oggi quelli che abbiamo a disposizione sono la fine dei sistemi generativi, come sappiamo, trasformato qui, large language models, large multimedia models. Insomma, con l'intelligenza umana non abbiamo nulla a che fare. Questi non sanno che cosa dicono. Ma è nota questa cosa. Cioè, loro non hanno la più pallida idea di quello che stanno facendo. Né loro, ammesso che abbiano un loro, un'identità, e nemmeno in fondo chi li ha progettati. È stato ammesso recentemente, dopo che un utente ha detto, scusate, ma mi dite una roba. Ma com'è che fa a, cioè, lui è, gli è chiaro quello che sta producendo. Cioè, se io voglio cancellare il mio nome, lo posso fare? C'è una serie di domande legate alla source, e loro dicono, non lo so, l'abbiamo addestrato, funziona bene. Lo posso applicare. Però, però un po' è così. Ha un bambino quando nasce, oltre a tutto quello che succede adesso. E non è, no? Non è così. Non ha quelle caratteristiche, ne ha altre. E ce n'è una che è in arrivo, forse. Si dice, non si sa, pare che OpenAI abbia questo Q-star. Quasi tutti qua ne avrete sentito parlare. L'intelligenza artificiale, general, general, artificial intelligence, AGI. Cioè, allora qui sì, che in teoria ci troveremo di fronte a modelli in grado di replicare l'apprendimento umano, l'intelligenza artificiale forte. Allora lì sì, potremmo pensare di parlare di intelligenza artificiale. Può essere che arrivi, quando arriverà veramente cambierà tutto. Perché allora lì sarà, in teoria, sono modelli che non hanno bisogno di play. E quindi vedremo che cosa succederà. Per ora siamo fermi a sistemi statistici che non sanno quello che fanno. Lo capite facilmente, se voi chiedete a uno di questi generatori di fare l'immagine di una stufa a gas, come si chiama, fornelli a gas, vedrete che spesso il numero di manopole non corrisponde al numero di fuochi. Perché lui non lo sa cosa ha fatto, lui indovina il pezzo dopo, mette insieme cose più logiche, ok? Eppure su questo oggi ci basiamo tutti. È un ottimo collaboratore, ma non sa quello che fa. È come uno molto bravo a parlare, mi studio due cose, io me la cavicchio a parlare, però dietro c'è i contenuti. Ma è uno che mi studio due rodine sulla biologia molecolare, vengo qua, parlo, sembro uno bravo, in realtà non so. O quando non si spingere gli esami, che però si parla bene. E poi cosa c'è dopo per inquadrare nel tema? C'è la singolarità. Ci sarà? Già fatto gli schiami singolarità. Cioè c'è qualcosa che va oltre, no? È un qualcosa che è oltre esterno, no? Alla normale cognizione umana. Si utilizza per varie cose. È stato un termine utilizzato da Einstein originalmente nella relatività generale. E diceva che quando c'era un buco nero, oltre al buco nero le regole della fisica saltano. Perché lì c'è gravità infinita, qualsiasi soggetto oppure la luce rimane intrappolato per sempre. E quindi la nostra attuale conoscenza della fisica si interrompe proprio al limite della singolarità, rendendoci impossibile di descrivere ciò che accade dietro. E allora la singolarità tecnologica, che proprio è stata introdotta, rubacchiata in senso simpatico da Einstein, da von Neumann, e che dice, dice a un certo punto, va bene, anche nel mondo della tecnologia ci sarà un potenziale momento singolare, dove non si sa cosa ci sarà. E qui allora sì che si potrà parlare, almeno per inquadrare, io ritengo che non arriverà. È stato citato Faggini, che è un amico che ovviamente è un pezzo di storia, e che anche lui ha scritto un bellissimo libro, dove sostanzialmente dice che no, la singolarità non è natura, no, non ci saranno macchine senzienti, non ci saranno macchine più intelligenti dell'uomo, anche perché nel caso ci sottometterebbero. Questo è quello che ci ha insegnato la storia, no? Quando si è più intelligente, sottomettigli. E noi uomini, purtroppo, spesso lo abbiamo fatto, a partire dagli animali. Va bene. Allora, tutto questo va però con grande velocità, va molto veloce, tocca tutto e tocca tutti, e anche se sono pappagalli, ripetitori, stocastici, statistici, di algebra lineare, sono utilissimi. Wow! Ma sono utilissimi come aiuti. Sono utilissimi come sostituti. Eppure è una delle grandi domande, no? E quindi, ad esempio, sappiamo quanto sono utili per le piccole imprese, che già prima si potevano permettere di fare cose straordinarie che non potevano mai immaginare vendere in tutto il mondo, cose che ormai piano piano sono entrate nelle nostre generazioni, ma era incredibile, no? Riuscire a raggiungere clienti di tutto il mondo, riuscire a farsi conoscere in tutto il mondo, riuscire a vendere con un click, cose che, wow! Comunicare dall'altra parte del mondo. Cioè, chi ha qualche annetto in più si ricorda che quando era piccolo le telefonate con gli Stati Uniti si facevano con la teleselezione. Cioè, dovevi telefonare a un operatore che ti metteva in contatto e si sentiva che uno era lontano. Cos'era lontano? Oggi con WhatsApp la qualità è straordinaria. Ma comunicazione a parte c'è anche tutto il tema della sostanza, che alla fine noi siamo fatti di, diciamo, essere biologici. E quindi la sanità, wow! La sanità, nell'intelligenza artificiale, soprattutto nella diagnostica per immagini, ha 60 anni. No, 60 anni, chiaramente, adesso ha avuto una curva di crescita pazzesca, grazie all'improvviso di questi modelli, ma oggi si possono fare cose... Io ho avuto la possibilità di adesso lavorare nel mondo della sanità, con l'inizio a Raffaele, dove poi ho un master in coordinazione scientifica di un master in comunicazione della scienza, e dove sto vedendo cose incredibili. Ma lì, davvero, cioè, prevenzione delle malattie a livelli mai pensati prima, migliorano i percorsi di curi, di cura, migliora, ovviamente, anche l'assistenza, il modo, l'interoperabilità tra gli sistemi, insomma, tanta roba, no? E oggi ci piace. Un'altra cosa che ci piace, con certezza, perché poi volevo, siccome abbiamo detto che vediamo tutti il nuovo il nero, il pianto, l'hotel, il brutto, guardando dall'alto questo problema, questo tema, questa opportunità, ce ne è anche un'altra cosa straordinaria, l'inclusività, che riguarda non tutti noi, ma troviamo cose che ci piace. E allora oggi, il digitale già prima permetteva a delle diversità di accedere, di vivere, di condividere, pensate a banalmente alcune, no? Alcune verticalità della vita, proprio dagli affetti al lavoro, che possono essere condivisi, perché al posto di doverle condividere con quella cerchia ristretta che è nel tuo paese, nella tua città, nel mondo troverai sicuramente un gruppo di appassionati di tappi rossi per brutite, ed è la tua natura, il tappo rosso per bottiglie, e trovi chi fa. Ma poi, nell'inclusività, ci sono anche le varie disabilità che grazie all'intelligenza artificiale, per quanto dei papagallacci ripetitori, fanno cose incredibili, perché i traccettini non sono più stupidi, questi cominciano ad essere commercializzati, penseranno magari 300 euro circa sul mercato, quelli riconoscono la bocca, capiscono il cibo, se è un pezzo di carne o se è un brodino, cioè, wow, quando uno vede queste cose qua dice, ma quanto è bella, l'intelligenza, ha il ticciato, ci faccio una cazzone bella, forse un singolo d'unico, e si traccia una volta. Ma poi è bello anche quando guardiamo queste cose che ci fanno fare, no? E ci fanno fare cose bellissime, pensate a protesi che mai potrebbero essere immaginate. E poi c'è di più, c'è di più, e qui cominciamo a riflettere. C'è di più perché avete visto le prime queste alimentazioni umane di mio, wow, dispositivo che si integra con il cervello umano e lo potenzia. Boom! Se io vi chiedo, lo mettereste? No? Qualche mano alzata, altre meno, l'altri che dicono, sì, aspetta, cosa fa però? Allora, adesso fa delle cose che giustamente, primo, la prima persona che l'ha installato era un paralizzato, lui, che chiaramente da muovere il know-how con la vacchetta, a pensare di muovere il mouse, a pensare a qualcosa, a vederlo accadere, c'è una differenza incredibile, anch'io l'avrei immediatamente installato. Ma pensate quando invece incomincerà, sogniamo, a farci imparare una nuova lingua, così, download, a imparare a bo-coding, download, la storia dell'umanità, download. E queste cose non sono poi così lontane, perché quando, parlando con i vari neurologi, quando hai accesso diretto, ti cominciano a cambiare le cose rispetto all'accesso attraverso la scala crani. E qua mi fermo un secondo, perché dopo ci torno su. Continuiamo però ancora con le opportunità, quindi qui opportunità di fare cose, aumentare la nostra capacità cognitiva, interagire, che ci vuole? Se è vero che io posso parlare con un computer, allora posso parlare, posso pensare e lui dice, il mio pensiero, my gosh, tanta roba, quindi, possiamo pensare a distanza. Ma poi ci sono i robot, mamma mia, anche i robot su di grande aiuto. Questo è fiction, ok? Questo che vedete non è vero, è riprodotto. Ma non sarà lontanissima questa roba qua, non è roba lontana. Ma quanto lavoro, quanto può aiutare l'uomo tutto questo? Tanto. E voi vedete un robot, ma nella realtà questa roba esiste da tanti anni. la differenza è che ora riescono ad avere relazioni similumane, superano il test di Turing. Non sapete, se metti dietro una parete un umano e una macchina gli fai un buco di domanda, devi indovinare qual è il robot. e il robot vince più volte ha superato il robot. Tutto questo ovviamente ci fa riflettere sul fatto che ci siamo quasi dimenticati che mezzo mondo è disfannesso. Se Elon Musk ci sta dando la cognitività del cielo, ma sappiamo anche che ci sono una serie di questioni, di problemi, quelli un po' più tecnici, un po' più cosi, sanno che alla fine si serve fibra ottica. Poi certo, è utile anche quello, ma insomma, come dire, stabilità. Ci sono persone che proprio non se lo possono permettere, che non ce l'hanno, altre che devono in aree completamente sfornesse, altre che devono in aree connesse, ma dove si va? Pianissimo, eccetera, eccetera. Per cui, tutto questo poi alla fine è wow, 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 giornalina, quel problema che avevamo prima. E poi c'è il problema dell'energia. Sono tutte tecnologie energivore. Milioni di server, capacità di calcolo mai viste prime, e su c'è l'energia. Ce l'abbiamo tutta questa energia? Siamo in grado di produrla? Forse sì, ma in modo pulito, magari anche no. Wow, c'è un problema. Lo so risolvere? No, voi, forse no neanche, però c'è. E poi un altro problema che c'è anche più. La privacy, no? È una roba pazzesca. Io, guardate, su questo divento male, infatti collaboro con i caratteri, per cercare dai una mano spesso nella comunicazione, perché è un tema percepito pochissimo dalle persone. Cioè, la privacy è, i miei dati, ma sì, dai, un indirizzo, email, una parola, la miseria, cosa vuoi che sia, la maggior parte delle persone. Ma la privacy non è solo quello. Oggi è quello che pensiamo, quasi, è quello che, è dove siamo. Il fatto che voi siate qua, due insieme, è scritto in un database, è scritto, quello che dite, è registrato, abbiamo tutti il tasto a un microfono, e non sono dietrologo, è così. E non sono i big, a piacere, di solito, è l'applicazione quella per vedere se i meloni sono naturi, maturi, o se c'è il fantasma della stanza. Quelle lì, sono quelle che poi ascoltano, prendono i dati, trascrivono, e li vendono nei marketplace, che vengono ricomprati poi, ovviamente, indirettamente anche dai. E allora se parliamo di privacy, dell'importanza della privacy, e finora stiamo parlando dei dati, qua sapete che i nostri dati sanitari sono finiti dappertutto, e lo finiranno. Ogni cosa che mettete online, anzi, ogni foto che scattate, perché va automaticamente online, sarà là per sempre, è quello che dobbiamo anche dire ai nostri figli. Però adesso qui si pone un altro problemino, c'è anche il problema della privacy del cervello. Oh mio Dio, è vero, ma allora se tutti questi dati, cioè se lo aumentiamo, tutti quei dati lì finiscono da qualche parte, e se finissero da qualche parte, qua pieno di informatici, sappiamo che di sicuro non c'è nulla, in un sistema manco, uno spento è annegato in una gabbia di cemento sottoterra, è sicuro, no? il punto più debole poi lo sapete di un sistema informatico è tra la tastiera e la sedia, per cui anche lì è un grosso guaio, no? E allora, e allora la brain privacy sarà un altro problemone. Il potere, chi ha in mano tutto questo, la sicurezza di questi dati, chi li guida, come li guida, e poi può spegnere. A volte le persone, io collaboro adesso con il dipartimento, con la trasformazione digitale, e la trasformazione digitale, e ho altre cose di caso, e mi dicono, siccome io e mio figlio abbiamo fatto la pubblicità sulla carta elettronica, puoi scaricare l'app, e c'è chi mi ha scritto, sì, così poi lo Stato ci spegne. Allora, allora, cioè si ha meno paura a dare tutta la nostra vita ai social network di tutte le nazioni del mondo, anche quelle meno democratiche, che fanno quello che vogliono nei nostri dati, perché il mondo non è solo qua, e però allo Stato no, o uno addirittura è arrivato a dirmi, no, cos'è? Ci sarà l'app dove hai le cose, qual certificato di nascita? Mi voglio disiscrivere! Sì, ti disiscrivi dal certificato di nascita. Perfetto, vai! No, cioè proprio, però ha appena detto tutto questo, postando la sua posizione, ha un'azienda civile cercato. Allora, e qui c'è anche un'altra questione, ma le aziende hanno etica, vi ricordate Google, Don vivo? Eh, ma poi cosa è successo? Che quelli giustamente hanno detto, scusa, ho un attimo da fare con la barca, arrivo, e di là è arrivato l'amministratore delegato, con questa medica, la prossima amministrazione, e con l'etica, dice, scusate, ma sì, etica washing, green washing, però sappiamo che gli obiettivi sono altri. Possiamo vivere veramente con sistemi che prendono decisioni per noi, senza un'etica dentro? No, dai, noi ce l'abbiamo. Quale però? Sapete che c'è la moral machine, Massachusetts Institute of Technology, cercatela, vi fa vedere tanti esempietti così, dove vi dice, la macchina che si guida da sola e che non sa che cosa deve fare, dove sbatte? Contro il muro, contro l'albero, uccide l'autista, oppure uccide la vecchietta, uccide, ognuno risponde un mano di te, insomma, e giustamente ognuno ha la propria etica, per non parlare del copyright, un altro grande tema. Ma allora, siccome all'inizio abbiamo, perché tutti questi hanno portato via e rubato il sapere umano, la creatività, quello che abbiamo fatto, e oggi, se hanno usato i sistemi degenerativi per creare una canzone, la fanno benissimo, ma non è che l'hanno fatta loro, ma è che l'insieme è roba nostra. E peraltro, ora che si vogliono chiudere le porte, parlo di regolamentazione tra i secondi, ormai però i vuoi sono scappati. Quindi chi ha raccolto, raccoglie. Il lavoro, una delle grandi domande, e certo, questi girano per Londra, dove abito, li vedo, è evidente, che c'è un problemino. Se un posteggiatore costa n mila euro all'anno, questo ne costa la metà una volta sola, con un piccolo filo di manutenzione. secondo voi, il parcheggiatore, il proprietario di parcheggio più analogico e più base del mondo, cosa sceglierà mai? Io nella mia vita ho visto che sono tutti analogici, non sono innovatori, fino a quando non costa un decimo o è gratis, allora diventano tutti pirati, informatici, e gente che non è in grado di connettere il proprio telefono a internet, improvvisamente scarica le robe pirate col peer-to-peer. Ma come? E purtroppo è questo, o meno male, boom, chi ha la risposta? Nell'industria è già così, e si muove così. E allora quindi, e qui ripeto, non sono robot, è intelligenza artificiale, perché il braccio, quel motorino, c'è da quando sono piccolo. E allora, e allora, uno dice, ma sarò, saremo sostituiti dopo quella risposta ci pensa la politica, fino a quando viviamo, che di solito l'accezione è negativa, in realtà, fino a quando viviamo in un posto democratico, grazie a noi, grazie ai nonni, grazie a, fortunatamente possiamo scegliere, anche se a volte sembra di no, ma sì, possiamo andare a votare, basta andarci, perché poi non ci andiamo, e ci lamentiamo, no? E scegliere chi ci deve rappresentare, e magari oggi, per quelli più consapevoli, dovremmo scegliere chi, io non so chi siano, come dire, non sono da una parte, sono per chi sa interpretare questo mondo nel modo corretto, perché negli ultimi vent'anni non ci sono riusciti, ne sono arrivati tardi, e quindi chi è che, però so dire, cioè so dire, so, chi saranno quelli sostituiti dall'intelligenza, artifici, e i primi sostituiti saranno quelli che non sono riusciti, sembra una battuta, però è così, cioè l'avvocato che fa il ricorso da solo, non è comparabile all'avvocato che fa il ricorso utilizzando le IA, perché è più veloce, poi ci vuole sempre l'avvocato, perché, vedete, il punto è l'uomo aumentato, cioè l'uomo deve essere aumentato, ed è giusto che sia aumentato, l'importante è esserne consapevoli e sapere che spesso dietro ci sono delle scatole che io ho chiamato impropriamente, volontariamente nel libro scatole nere, nere nel senso non quelle rosse degli aerei, ma nere vere, dove non sai cosa c'è dentro, e quindi se io decidono che sono un salto in banco, sarò un salto in banco, e non sarò più Marco Camisani-Cazzolari con il mestiere che faccio, e lo sarò in tutti gli articoli, non serve neanche convincerle persone, perché i giornalisti sono quello per scrivere, i tesisti usano quello per fare le tesi, i ricercatori usano quello per i papers, e stiamo vivendo in un mondo dove c'è una deepfake ovunque, e sapete una cosa, è deepfake, come dire, solo fino all'anno scorso di un certo livello bisognava crearli solamente, si potevano creare solamente da, potevano crearle solamente, ce la posso fare, solamente la persona è capace, si manettose, oggi bastano tre click, io carico il mio videino, e poi lì lo do e parlo in inglese e sincronizza, però parlo molto peggio io davvero, no? E allora tutta sta roba che facciamo, la lasciamo così? C'è che dice di sì, lascia, la tecnologia non si può imbrigliare, perfetto, bene, non vogliamo regole, allora prendiamo le automobili, le mettiamo per strada, cavalli, siamo un'automobile, e non stabiliamo niente, codice stradale, non le vogliamo le regole, se no non le vogliamo le automobili, tutti schiacciati, morti, si scontra, gli incroci un delirio, gli aerei, perché anche gli aerei, non c'è niente, tutti che volano, si schiantano, vanno, partono a caso, quando ci hanno voglia, no, ci vuole il codice stradale, e quindi servono queste regole, il problema è, chi è che esiste queste regole? Vi ricordate? Prima dell'intelligenza artificiale, quando i social network erano più potenti dei presidenti degli Stati Uniti, perché se li spegnevano, non vincevano più lezioni, immaginate oggi, che non sono arrivati all'intelligenza artificiale, ma nel 2024, 64 paesi vanno a votare, per il totale di un miliardi di persone, e chi decide, non decide più per la tua nazione, basta, perché noi siamo influenzati globalmente, c'è una sorta di, ne parlo bene nel libro, c'è un capitolo che si chiama Long Distance Nationalism, che praticamente racconta proprio quanto noi siamo influenzati, la nostra nazionalità è diventata più blended, più mista, non viviamo più, quando mi scrivono, banalmente per fare un esempio, quando mi scrivono per le truffe, che mi scrivono spesso, perché come so, se non mi seguite sui social, fatelo, non promuovo creme, cose, racconto solo cose utili, e spesso, avviso delle varie truffe che circolano, mi scrivono, ma perché la polizia non fa niente? Io ci collaboro con la polizia, però non è per quello che lo dico, la polizia fa cose incredibili, l'Agenzia Paracetica protegge il perimetro nazionale, ogni volta che per un giorno sono rimaste le centrali elettriche accese, o quelle dell'acqua potabile, voglio dire, non lo si vede, ma è così, è che come fai a multare quel cittadino di quella diversamente democratica, penisoletta, strana, dove c'è il dittatore che vive prevalentemente di scam, truffe e attacchi in giro per il mondo? Cioè la polizia gli fa la multa? No, c'è un problema, allora, si sta cercando di capire e di risolvere, non è facile, è l'Ajax, lo sapete, regolamento europeo, l'Italia ha già fatto il suo disegno di legge, che adesso è il voto Camera-Senato, emendamenti, e vediamo cosa ci si porta a casa, per quelli che sono contro le regole, dicono, no, non serve a niente, per quelli che dicono, magari il codice stradale, forse sì, bene che arrivi, è risolutivo? Cioè, ci risolve il problema? No, perché? Perché io faccio l'esempio di un tubo d'acqua, con ovviamente acqua negativa, che arriva addosso e questo mette, prende uno scolapasta, lo metto là con i buchetti che spruzzicchia dell'acqua, che continua a bagnare, ma non è più un getto. Quindi, sì, è vero, non è risolutivo, ma ci aiuta molto. Io penso che l'uomo debba essere al centro, lo scrivo nel mio libro, sono contrario al transumanesimo, perché rischiamo di diventare integrati con tecnologie che non conosciamo in mano a terzi che possono offendere quando... sono per l'uomo aumentante, l'uomo che usa il digitale in modo consapevole, regolamentato, civile, democratico e quindi per la collaborazione uomo-macchina. Qui vi troverete, molti di voi, a fare quello che sto facendo io adesso, cioè a raccontare questa roba, c'è chi lo fa in pubblico, c'è chi lo fa di persona, c'è chi lo fa nelle riunioni, a dei clienti, potenziali clienti, nelle riunioni, eccetera, tutta questa roba. Io questa slide, che se volete, vi do quando volete, la cercate, la trovate, che è molto utile per aiutare a spiegare cosa sta succedendo, che è questo, con lui che arriva con la ruota e loro dicono, no grazie, abbiamo già troppi guai, per cui vattene, e noi siamo quelli con la ruota, per cui, come dire, spero vi possa essere utile, coprate il libro, le prime dieci, telefonate, in qualche modo lo sconto. Grazie a tutti! fammi pigliare sti applausi, scusate, potete rimanere? Continuate, volevo dare il voce, l'applauso, perché è davvero un ringraziamento per te. Grazie, benissimo, scherzo, si scherzo, me ne vado, sto qua, mi devi fare delle domande, com'è la scaletta? ma io me ne vado? grazie, inizio.